Quando si dice prendersela con la persona sbagliata. È quello che è capitato a Nicola Bartolini, medaglia d'oro del corpo libero ai mondiali di ginnastica artistica del 2021. Sui suoi social l'atleta ha scritto un lungo messaggio in cui ha spiegato di essere stato aggredito sotto casa sua mentre portava fuori il cane. Per la sfortuna del povero sfigato ladro, scrive Bartolini, che anziché portarmi via il cellulare ha solo preso tantissimi pugni in faccia. Il ginnasta ha quindi mostrato in un video successivo la botta riportata in fronte, con conseguente bernoccolo, e una piccola ferita sulla mano. Ma al di là delle conseguenze fisiche, quello che resta è la critica alla gestione della sicurezza in città. Una sicurezza che, secondo il ginnasta azzurro, nella giungla di Milano proprio non esiste. Ne succedono di tutti i colori ogni giorno, scrive, e fosse successo a una signora o a una ragazza indifesa, non so come sarebbe andata a finire. Milano è davvero una città raccapricciante. In fondo, conclude Bartolini, mi ritengo fortunato ad aver preso soltanto un pugno in fronte. Sicuramente è stato più sfortunato il mio povero aggressore, appunto quando si dice prendersela con la persona sbagliata.